Good morning Milano! Good morning Milano! Come state? Come va? Come va? Come va? Allora, come sta andando questa mattinata? È già iniziata da quanto per voi? Oppure sta appena iniziando? Sono le 7 e 11 minuti di oggi, venerdì 24 maggio. Oggi è venerdì e quindi tutti insieme, all together now, thanks God, it's Friday! Ebbene sì, è arrivata anche la fine di questa settimana. Quante volte ve l'ho già detto all'inizio dell'anno? Non so quante stagioni ho. Comunque, 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 allora, 7 e 12 minuti. Qua iniziamo la mattinata insieme, la iniziamo con un po' di musica, la iniziamo con un po' di notizie, la iniziamo con gli ospiti che verranno oggi, insomma, come sempre, tante, tante cose che potete ascoltare qui su Crystal Radio Good Morning Milano, la mattina dalle 7 alle 9. Le coordinate sono 33178535555. Pensate, una volta c'era questo e poi devo darvi un indirizzo, il numero di telefono fisso, l'SMS, il PO Box, oppure dovevo darvi anche il mio codice fiscale. Invece adesso, vedete, basta un numero di cellulare, un numero di smartphone e potete fare e condividere con noi quello che volete grazie a WhatsApp. Pensa, pensa lei, signora, dove siamo arrivati, eh, sì, bene, bene, sì, bene, sì. Quindi aspetto i vostri WhatsApp, aspetto le vostre, anche le vostre foto di questa mattina, perché secondo me al momento c'è bel tempo. Chiedo anche a Elisa che arriva dall'altra parte della città, anzi, salutiamo e approfittiamo di salutare Elisa Galmarini e la nostra produzione. Sì, dice che c'è bel tempo anche dall'altra parte della città. E quindi iniziamo con un po' di musica, iniziamo con un po' di energia. E che energia? I Muse con Will of the People, Will of the People. Wreck-a-rock-a-roll, rock-a-roll, never die, potremmo dire. I Muse che ci danno la carica per iniziare bene questa giornata, questa mattinata, che vi ho chiesto appunto come era iniziata, se era già in pieno svolgimento cosa. Infatti ci arriva un WhatsApp, buongiorno da quella di Bergamo, buongiorno e ancora complimenti all'Atalanta per la vittoria, aggiungo io. La mia mattinata è iniziata alle 6.25 dopo essere crollata alle 20.30 di ieri sera, invece che andare in palestra. Buongiorno a tutti e buon venerdì, buongiorno anche a te, quella di Bergamo. Beh, ieri sera io invece sono andato a un concerto, lo sapete quale? Se ci avete seguito nelle giornate, nelle puntate precedenti, anzi facciamo previously, previously, come che è? Previously on Good Morning Milano. Sono Izzy Raff e faccio una cover band di Rolling Stone. Ah, ciao, buongiorno Izzy, chi sei? Ma noi facciamo una cover band, ma perché? Ma per la fondazione durante noi. Ah, quando? Ok, ieri sera siamo stati al concerto appunto dei Donkeys Forever per la fondazione durante noi, al Spazio Teatro 89, grazie alla cooperativa De Gradi per raccogliere fondi appunto per la fondazione durante noi e abbiamo ascoltato questo bellissimo concerto, un'ora, un'ora e mezza di grande musica di Rolling Stone appunto fatta dai Donkeys Forever. Quindi io anche ieri sera ho fatto tardi, infatti questa mattina non è stato facilissimo essere qui pronti alle sette a darvi la sveglia mattutina, ma ci sono, non preoccupatevi. Anche voi appunto avete detto, ieri sera, crollate le 20 e 30, ma guarda che è quello che io faccio regolarmente, 21 e 30, 22, comincio a dire andiamo a letto? Perché non si va a letto? E mi fanno tirare fino alle 11 quando si riesce, ma difficilmente si riesce. Buongiorno anche ad Alberto, invece che ci scrive, buongiorno Cristallini, buongiorno Fabio, buongiorno alla redazione, quanti buongiorno, buongiorno, potremmo chiamarci Good Morning in Milano quasi quasi, non deve essere un'idea, no, infatti, quindi Good Morning anche a te Alberto, buon weekend a tutti e speriamo nel sole. Adesso io non ho ancora guardato bene le previsioni del tempo, non ho voglia di guardare adesso, anche perché, guardate, vi faccio questa provocazione, ma se noi smettessimo di guardare le previsioni del tempo per le prossime settimane, basta, cioè non ne posso più. Tanto ogni volta vi do notizie sbagliate perché poi cambia 200 volte nel giorno il meteo. Dirvi, ah oggi il meteo sarà ballerino e mi sembra di dirvi che ho scoperto l'acqua calda, quindi sto pensando di togliere questa parte di trasmissione, cioè non vi dirò più che, però mi stai capendo le notizie, no, oggi no, il problema è che poi arrivano le notizie sul maltempo, quelle lì devo per forza leggere, non è che posso, già faccio censura sulle notizie, quelle tristi che non voglio darvi la mattina perché non voglio intristirvi la giornata. Se poi vi do anche le notizie, vi faccio censura sulle notizie del meteo, soprattutto quando è avverso a quello che vorremmo e non mi rimane molto, metto solo musica, faccio una playlist e ve la faccio ascoltare tutte le mattine. Comunque tutte le mattine invece, lo sapete benissimo, ci si alza in questa città e si sa che bisognerà correre. No, non siamo la gazzella con il leone della savana africana ma siamo il milanese con il traffico milanese, è così. Traffico milanese che va a influenzare la vostra giornata, qualsiasi mezzo voi prenderete perché se uscite a piedi, fatevi la ciclumorazione a piedi alle 8 del mattino, 7 e mezza, 8 del mattino, tornate a casa che avete i polmoni neri. Poi in bicicletta il rischio è che vi stirino ogni tre incroci, se prendete la macchina invece il rischio è che stirate qualche ciclista oppure che state in coda, però la coda, devo dirvi, dal punto di vista del marketing mi fa comodo perché ci ascoltate con più attenzione nella vostra autoradio e quindi comunque vada anche con i mezzi pubblici il rischio è che comunque state in coda con l'autobus, c'è l'unica forza della metropolitana un po' che vi salva. Ma noi vi diamo uno strumento in più che è quello di ascoltare Luce Verde che vi dà la fotografia in tempo reale del traffico nella nostra città e quindi a voi Luce Verde! Matteo Romano con Virale dal 2022, la musica italiana che passa anche qui su Crystal Radio, insomma tanta la musica internazionale e anche nazionale e poi lo sapete che c'è l'approfondimento poi volendo, come fosse un super quark dopo di noi vai in onda Ambrogio Curti con Senti Questa che è un po' appunto l'approfondimento, è come il TG7 quello che fanno l'approfondimento di Rai 1, ecco c'è Mixer, ve lo ricordate Mixer com'era? Ecco con Minoli, quella roba lì c'è Ambrogio Curti è il nostro approfondimento sulla musica nazionale ed internazionale quindi insomma se poi vi piace la musica, amate la musica, amate tutto quello che è intorno al mondo della musica, Ambrogio è la persona giusta da ascoltare con Senti Questa alle 9.05, ma poi mi spiace però che faccio sempre l'endorsement per Ambrogio prima e dopo di me, ma ci sono tantissime altre trasmissioni su questa stessa rete, su questa rete alle ore 20 e 30, no, ci sono tante altre trasmissioni su Crystal Radio a cui non faccio l'endorsement e quindi chiedo scusa e anzi, adesso dovrò di scrivermi così, quando siete in onda, ditemelo così alla mattina dico, poi stasera alle 21 c'è capito, non so, mi viene in mente Easy Folk ad esempio, saluto gli amici di Easy Folk, il Tacchino Curioso, saluto gli amici del Tacchino Curioso, ci sono tante, non solo metal, saluto i non solo metallari, ci sono tante trasmissioni che potete ascoltare appunto su Crystal Radio praticamente tutti i giorni, quindi insomma mi raccomando, rimanete sintonizzati qui con noi. Parlano di musica, è su tutti i giornali, è una notizia che è passata magari, è su tutti i giornali, è passata magari un po' così sotto traccia per chi non è attento a questo tipo di notizie o per chi magari non è legato a quel periodo, a quella canzone. Ieri poi per caso noi abbiamo proprio aperto la nostra smissione con quella canzone, sto parlando della canzone, delle vibrazioni dedicato a te, Giulia, per intenderlo quella che dice immensamente Giulia, e ieri proprio, un po' nel pomeriggio, ci arriva una notizia che ci ha sconvolto un po' a tutti, anche per appunto la coincidenza col fatto che la mattina avessimo messo in onda quella canzone. Leggiamo da Corriere della Sera Milano, è morta l'immensamente Giulia, la donna che ha ispirato la canzone dedicato a te delle vibrazioni, con quel famoso video girato sui navigli. A Giulia era dedicato il primo singolo del gruppo scritto da Francesco Sacina nel 2003. La donna lascia un marito e due figli, era malata da tempo, il cantautore ha detto Giulia mi ha aiutato a uscire da un periodo molto difficile. E quindi davvero ieri, poi piccola nota a margine, questa canzone fu un successo veramente clamoroso. Quel nome riecheggiava praticamente in tutti i jukebox, ma non solo, in tutti gli iPod, forse c'erano già i primissimi, o comunque nei nostri Walkman e nelle nostre radio. Cosa succese poi? Uscì il video, il video fu anche un successo pazzesco soprattutto per chi stava a Milano e amava Milano. Un video girato in piano sequenza che vedeva uscire da un portone sull'alzare del naviglio questa ragazza, in realtà in due versioni appunto, una delle due era anche Giulia, dove appunto con una camminata attraversava poi un ponte sul naviglio, scendeva da un'altra parte ed entrava in un locale, un locale storico di Milano che era Le Scimmie. Ieri sera al concerto appunto dei Donkeys Forever, chi c'era? C'era il patron delle scimmie. Ebbene sì, era lì che ha rappresentato la serata, ha rappresentato il gruppo ed era colui che appunto ha inventato quello storico locale. Quindi si chiudeva un cerchio appunto anche con questa canzone che la mattina avevamo ascoltato e che quindi non si dovrebbe fare in radio, ma che vogliamo riascoltare oggi appunto per dedicarla proprio a Giulia. Ivan Allen con Jump alle 7.36 minuti, citazione di una canzone degli Of Laga di Scopax, ma fa niente. Andiamo avanti, sono le 7.36 minuti, è arrivato una WhatsApp. Buongiorno Fabio, sappiamo qualcosa sugli acquazioni di oggi? Adriana, avevo detto che non volevo darvi le prisioni al meteo, invece ve le devo dare. Allora ho controllato cosa dicono, che in teoria tra le 8 e le 9 nubi sparse ma potrebbero esserci leggere, leggere precipitazioni. Poi la cosa più divertente è che alle 10 il meteo in questo momento dà pioggia e schiarite, cioè quindi continua a pioggia e poi ieri è piovuto col sole, quindi pensate voi. Poi dovrebbe essere tutto un po' più tranquillo nella mattinata per poi giustamente rompere un po' più le scatole quando? Tra le 18 e le 19, cioè quando proprio uscete tutti quanti dall'ufficio. 17 dovrebbe iniziare a più vigilare un po' e poi verso le 19 un po' più forte e per le 20 temporale e schiarite. Questo è il menu della giornata, questa è la playlist della pioggia che oggi potrete ascoltare sulla nostra città. Gli eventi della settimana a cui non andrei. Buongiorno Ribisi. Buongiorno. Non ti mangiare il microfono. Lo so che mi guardavi per un altro motivo, per la sigla, perché diciamolo. Abbiamo finalmente ritrovato la vecchia sigla dell'inizio di questa rubrichetta. È vero, sì. Che secondo me è più o meno 2019. Non c'era ancora il Covid. Sì, più o meno sì. Comunque volevo dare un consiglio ad Adriana. Guarda fuori dalla finestra. Ma credo sia già in macchia. Perché di base non è prevedibile. Cioè sembra che stia... Che bellissimo. Vai, oggi c'è il sole, dopo un secondo scroscione. E via. E infatti ha ringraziato dicendo grazie. Che meteo matto. Così scrive Adriana. Possiamo dirlo tutti. 3-3-1-7-8-5-3-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5. Che due mesi, Matti. Ah beh sì. Perché tra aprile e maggio, yuppi yuppi du, mi viene da dire. Per fortuna sta però arrivare il mese più bello dell'anno. E quindi... Giugno? Giugno. Giugno sicuramente regala sempre delle grandissime soddisfazioni. So che me ne pentirò. Perché è il mese più bello dell'anno? Perché è il mese del mio compleanno. Ah, ecco, semplicemente per quello. Ok, no, no, va bene. Ma poi nelle prossime settimane vi ti dirò sul mio compleanno perché c'è una nuova angoscia Cioè che angoscia hai? Eh io ho 40 anni, cioè spaccati, esattamente come Crystal Radio, non è vero perché io ne faccio 41 E questo fatto di diventare 41enne mi sta mandando in sbattimento al pari del 19 Solo il 19? Quando ho fatto 19 anni non ho voluto festeggiare il compleanno perché era in sbattimento e il lutto per via che i 18 se ne erano andati E quest'anno sto vivendo la stessa identica cosa Alla fine è stato molto bello, dico per tutti quelli che ancora non ci sono arrivati, fare 40 anni è molto bello Ah sì sì, molto bello infatti Quindi adesso staremo in, come si dice, in ansia fino ai 50 Io però te l'ho già detta questa cosa perché questa cosa me l'avevi anticipata qualche giorno fa Ma ci sono i 45 prima Ma non me ne frega niente Ah vabbè ok Non mi piacciono le cose tante Comunque no, io stessa cosa quando ho fatto 23 e 27 Erano due anni che mi hanno fatto fastidio Ovviamente perché c'era la maledizione, avevano tutti paura di morire Non sono una rock star quindi non pensavo Io sì, io sì, avevo paurissima anche perché essendo coetana di Amy Winehouse Ah giusto se con l'intera sua Cioè lei è morta che se non sbaglio aveva appena compiuto 27 anni Io per fortuna l'avevo già superati Ok, devo dire che su questa storia effettivamente io sui 33 anni qualche problema ce l'ho avuto La mia santità se vado a sentire Amen Fabio, amen Ma andiamo avanti Dai chi se ne frega Cioè via Allora come tutte le stagioni belle Quindi la primavera porta con sé un carico di eventi A mio giudizio inutili Quindi va bene così Ah il primo che vi volevo raccontare È un evento che non c'entra niente con Milano E neanche con la Lombardia Quindi mi chiedo ma perché lo stiamo facendo? Giusto Perché lo stiamo per dire? Lo stiamo per dire perché in Piazza Castello Quindi no, è un evento che viene fatto a Milano Ma non c'entra niente con la Lombardia In Piazza Castello da oggi fino al 26 maggio Che credo sia domenica Sì, giusto C'è il Festival della Carbonara e Cucine Romane Ciao ragazzi, io vado Ciao Fabio Lo sapevo che a te questa cosa avrebbe destato sicuramente molta curiosità Dai Elisa metti sulla sigla che devo andare Da oggi fino al 26 maggio Sono già là, a pranzo A pranzo, bravissimo Bravissimo Sarà chiuso Boh, può essere Non lo so perché sai che io eravi solta zia No, però essendo in Piazza Castello Secondo me dai pranzi sono già aperto Secondo evento BAM Circus Che cos'è il BAM? La Biblioteca degli Alveri Milano Bravissimo C'è il Festival delle Meraviglie al Parco Da oggi al 26 maggio Tre giorni di Festival di Circo Sapete che il circo è una delle cose che io Zero Ma qualsiasi anche senza animali Assolutamente sì Il circo per me è senza animali Ma di base no È un no Grande, grande, grande Come tutto ciò che riguarda Natale Più o meno Cosa c'entra il circo con Natale? Sono gli stessi argomenti più o meno Non è vero Guarda che non sono gli elfi di Babbo Natale quelli lì Sono i giocoglieri O gli acrobati Una cosa diversa Mi spiace dare questa informazione Ma come tutti voi saprete Io abito in zona San Siro Quindi per il momento Sta arrivando la stagione caldissima Che non è quella delle partite Ma è quella dei concerti E se il concerto è bello Tutto va bene Ma se il concerto ti fa schifo Sono rogne Quindi fammi capire Dovremmo fare una commissione comunale Dove dicono Eri B Viene a cantare Giovanotti Va bene Eri B Viene a cantare Mahmood Ultimo Ultimo Volevo andare a scalare Mahmood Boh Dipende quanti ne fa Ah vedi Certo Viene ultimo con Ermal Meta E Fabrizio Moro Allora Salvo Ermal Meta Grazie al concertone del primo maggio Ma sono un no Gli altri due Ma proprio un no categorico Pari a Babbo Natale Una bella reunion Fabrizio Moro E Ultimo Insieme Non ce la faccio Ok Quindi loro non potrebbero fare il concerto a San Siro Perché tu dici di no No Ma questo è il mio gusto Cioè è chiaro Sto pensando come fare Io non ci andrei E molto probabilmente Quella sera Mi chiudo in casa Con i tappi Benissimo Perché purtroppo Per chi vive a San Siro Il problema è questo Cioè non è il disagio Oddio il disagio Che c'è dietro Alla gente che va al concerto C'è È di più quello che c'è Sicuramente di più Quando ci sono le partite Eh va bene Però il fatto è che Tu senti quel concerto Anche se lo vuoi Se il concerto Scusate È il concerto del volo È impegnativo C'è in lista il concerto del volo? Non lo so Comunque Iniziamo con un bel botto Si dice a casa mia 29 30 maggio In Metallica Beh dai All'ipodromo Quindi c'è la fortuna Che forse non si senta Dipende come gira il vento Dipende che giorni sono Se gira il vento Gira il vento grosso E quindi va bene Quindi questo evento Sicuramente è un evento Dove io non andrò Eh Oltre al festival Della Carbonava Carbonara N.H.O. Quello in Tortona Ok C'è l'aperitivo festival Cioè Guarda Pensa che Mi ho aperto la notizia Nel caso non l'avessi data tu La leggevo Esatto C'è l'aperitivo festival Vai lì Ti fanno una nuova mixology E cose varie Dal 24 al 26 maggio E ho scoperto essere una seconda edizione Quindi vuol dire che c'è stata anche la prima edizione L'anno scorso Sicuramente l'avrò detta Sì Faccio Cosa è la nuova mixology? Eh Come si fanno i cocktail Ah E non sono sempre quelli C'è no Eh no Creano nuovi cocktail Ah ok No no Pensavo la metodologia No Creano dei nuovi No vabbè Mixology è La ricetta La ricetta La ricetta La ricetta Si chiama mixology Perché loro sono fighe Sono barman Non sono baristi Ah ok Ti piacciono i comici? Dipende È un po' come i concetti di ultimo Dipende Ti piace l'open mic? Dipende Vabbè comunque Allora Peccato perché Se no potresti andare alla santeria Domenica Dalle 21 Dalle 21 C'è Credo La nuova trasmissione Di Frank Matano Che per me Lui era Un dio Sì Poi ha iniziato a scrivere su Instagram Non mi ho mai risposto Neanche visualizzato Per me È caduto in basso Cioè perché scusa È così in basso che non risponde a te su Instagram Sì ma tra l'altro Che sarà l'unica che gli scrive soprattutto Tra l'altro non è che io avevo scritto niente di che Io avevo semplicemente detto che l'avevo sognato Cioè Come gli hai scritto che l'avevi sognato? Sì perché secondo me lui è anche un bel ragazzo Ma non era successo assolutamente niente Volevo semplicemente dirgli la gag del sogno che avevo fatto Niente Non mi ha neanche letto Per me è break list Ma comunque Anche se so che nei momenti di sconforto riguarda le sue storie Di quel suo viaggio a Londra Sì sì Il suo viaggio a Londra del 2019 È veramente qualcosa di meraviglioso Vi consiglio di andare a vedere sul profilo di Frank Matano Le storie in evidenza Si chiamano London Se non erro 2019 Comunque Frank Matano presenta Over sympathy Pensi di essere Di far ridere? Così si chiama il coso La trasmissione La risposta è Chiaramente No E non vengo al tuo evento Bene Comunque il primo giugno c'è anche Bruce Springsteen Allo Stato di San Siro Niente Non ho voluto mettere quello Perché tutto si è nato Che è il 3 giugno Potrebbe essere quasi interessante Invece Volevo Concludere No no Non voglio concludere C'erano ancora due Questa in realtà Mi è curiosita È che è un po' lontano Non è in Menano Ma è San Martino Siccomario E ce l'ho voluto mettere lo stesso Perché La veridea Domenica Dalle 10 Incontriamo Gli alpaca Alla veridea? Alla veridea Tu ci vedi Gli alpaca Che vanno A avere idea Salve signora Posso Vuole comprare questa piantina E intanto c'è l'alpaca Te la vende l'alpaca La piantina No però l'alpaca sarà lì Ti immagino tutti i bambini Che bruca le piantine Tra l'altro posso dire Una roba Gli alpaca sono brutti Ma non è vero Ma sì Sono bruttini i poverini Cioè non è che sono I cammelli I dromedari Ah Sono bellissimi Ah guarda Secondo me i dromedari Sono bellissimi Infatti si dice sempre Ma sei bella come un dromedario Ma sono più belli come animali Rispetto all'alpaca Ma perché è bello Poi all'alpaca Gli mettono sempre quelle cose Che sembrano un po' peruviani Ma non è vero Ancora lo mette Quello che canta In piazza del Duomo C'è quello cieco In piazza del Duomo Che ha il finto alpaca Sì ma infatti Ma quello Non è che quando vanno in giro Gli alpaca rivestono da peruviani Cioè vabbè Ma tra l'altro Perché gli alpaca Perché credo Rivino da quella zona Giù di lì Cioè così Vabbè comunque Concludo con un evento Di quelli belli su Facebook Allora La scuola di biodanza lombarda Che si trova in via Savona A un 3-4 134 Ok Fa un seminario Che ci si deve scrivere Che sarà il 25 Cioè domani alle 14 Il 26 Alle 18 Sull'affettività E l'immagine era molto bella Perché era un circolo di persone Tutte abbracciate E io ho pensato Che Fabio vorrebbe andarci Sicuramente guarda Io no perché Odio le persone che si abbracciano E odio l'affettività in generale Bene Nella tua vita deve essere molto stimolante E fare essere Complimenti comunque E dove in via Savona Questo? 1-3-4 134 Io in fondo 134 in fondo Quasi Quasi in giambelino Esatto Quasi a dark orient Vabbè Ho concluso Bene Grazie per i tuoi Dai io puoi andare al Festival della Matriciana Ma poi sono già lì Carbonare Non era Carbonare? Sì Carbonare Carbonare e cucine romane Quindi ci saranno anche la Matriciana Quindi ci saranno Sapete che cosa anche? I suppli I suppli Ma i suppli non sono napoletani No no I suppli sono romani I suppli sono nel cuoppo? No Quello è napoletano Ah ok Sai cosa si mangia a Napoli? O per un musso O per un musso Ecco Te lo annunziate Te lo annunziate Sì insieme agli Abba E perché gli Alpaca Abba? E perché è una sonanza Nello Se la devi spiegare vuol dire che non ha funzionato Oggi Nello Ai 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 Non mi ha funzionato Ai 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 Che vi dà Le indicazioni Per scamparvi gli eventi O forse invece Per andare agli eventi No no io vi invito in realtà ad andare Tra parentesi Ieri mi è arrivato un messaggio di Eri B Che diceva a un certo punto Evento interessante c'andrei Infatti non l'ho nominato Cioè il festival ciclomestruale Secondo me è molto interessante Perché è un evento divulgativo Quindi è molto Mi ha stupito Molto interessante Ha detto questo evento c'andrei Molto interessante Penso di aver risposto È la prima volta che mi mandi un messaggio del genere Comunque Cioè Non è che devi forza sminuirmi Perché dentro sono una bionda Ah è vero Eh sì perché tu sei una bionda dentro È vero è vero Dimentichiamo questa cosa Dimentichiamo questa cosa Chi la vede sappi Che sappia Oh mi prendono le mani Mi dà uno schiaffo No secondo mia madre Sono soldi e sono sberle Eh appunto Spero che non siano soldi Sono sicuramente sberle Beh ottimo va bene Comunque Lasciamola ai suoi deliri Così la mattinata può iniziare anche per Eri B Come già iniziata con tutti voi E continua Qui su Cristian Radio Con Good Morning Milano Con la musica appunto In diretta Qua alle 7.50 Grazie mille Eri B Ciao ciao Ci sentiamo Ci vediamo venerdì prossimo Se volete rivedere Se vi siete persi qualcosa Degli appuntamenti A cui andare O non andare Di Eri B Appunto Lo trovate su GoodMorning.milano.it Il nostro sito Di cui trovate anche Tutti i vari podcast Di Spotify Apple Podcast E ho scoperto anche Che Google Podcast A giugno chiude Ah Sì Nel senso che basta A giugno ci saluta Google Podcast Non a noi In generale nel mondo Vabbè Ogni tanto Google lo fa Apre, fa cose Tutti a correre Ve lo ricordate Buzz Wave Abbiamo corso per avere Qualsiasi invito E poi alla fine Non vi ricordate Maps No c'è ancora Maps Non è che non c'è più Non c'è più il pulsante Non c'è più il pulsante Nell'home page Perché La Commissione Europea Ha fatto una legge Per cui poi dopo Una legge che ha ragione Di fare Ma che poi viene applicata Ovviamente da Google In maniera Volutamente Un po' forzata Così che noi altri Diciamo Oddio Google Vi prego rimettete Maps E la vera Strategie Strategie di marketing Grazie mille LRB Andiamo con la musica Willy Peyote Ed è qui Alle 7.51 minuti Insieme a Shaggy Con Don Joe Willy Peyote Insieme a Shaggy E Don Joe Con Algoritmo Alle 7.54 minuti Qui su Crystal Radio Dove sto dando Un'occhiata Anche agli altri Siti Meteo Perché Danno notizie Contrastanti Nel senso che Dicono Che questa mattina Non piove mai E invece Nel pomeriggio Intorno alle 16 Deboli piogge Con una probabilità Del 70% Idem Poi Alle 18 Quindi 16 inizia Finisce subito Alle 18 Poi ricomincia Finisce di nuovo Per poi Riniziare alle 21 Ancora in maniera debole Per poi finire Intorno alle 22 E schierirsi Quindi non so che dirvi Questo è quanto Dicono i meteo Oggi Vestitevi Come vi ho detto Vestitevi a cipolla Ma di più Secondo me Portatevi dei cambi In ufficio Ma che vada Cambiatevi in ufficio Portatevi delle cerate Dei pantaloncini Dei costumi Dele tute da sci Così C'è tutto quello che serve Ce l'avete Comunque andiamo avanti Con la musica Grazie anche Ai whatsappi Arrivano anche Di apprezzamento Per Eri B Adriana scrive Eri B Mi fai volare Con un cuore grande Così E allora andiamo avanti Con la musica La grande musica Internazionale Qui su Cristian Radio Oggi un po' di energia Un po' di rock Con The Cranberries Con Zambi Alle 7.55 Good morning Milano Eh Pino Pino Daniele Quando 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 Tornerà Cioè Quando 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 C'è C'è Lasciato Un vuoto Quanto Più che Quando Anzi Pino Pino Daniele Alle 8 e 10 minuti Qui su Cristian Radio Good morning Milano Ben ritrovati Bentornati dopo la pausa Del giornale radio E un po' di musica E siamo ancora qui Con i giornali In mano Giornali Che vedono Arrivare la notizia Varie notizie Oggi voglio leggere Anche notizie Un po' così Di costume E società Anzi Di quanto a volte Ci facciamo Però Non lo so Leggo il titolo Poi giudicate voi Perché devo smettere Di giudicare Devo smettere Di rispondere Ai titoli del giornale Di pancia Perché poi dopo Ma che mi pento E se te ne penti Ecco Allora Milano Le due laureate Comunità Comunità ebraica Non so Cos'è il pane moderno Poi la comunità ebraica Cioè Mangia il pane Il pane è kosher Di suo Credo Non credo ci siano Problematiche Legate al pane Ma soprattutto Il pane moderno Vorrei capire Che cos'è Comunque Perché poi Appunto Raccontano Che Federica Ferrari 43 anni Lavorata in economia Francesca Gatti 40 anni Lavorata in storia Si incontrano nel 2020 La prima Cioè Federica Si occupava di comunicazione La seconda Invece Francesca A Parigi Di eventi Ma nella capitale francese Ha imparato anche L'arte di fare il pane Ci siamo conosciuti Qui a Milano Proprio in questa zona Intorno a via Washington Dove mancava Un'offerta Di pane Moderno Ancora Magari c'erano panifici Di vecchia generazione Che usavano farine bianche E il lievito di birra Eccolo qua Vedete Tutto qua Cioè Stava a togliere Il lievito Di birra E la farina bianca Usare quella integrale Usare un altro lievito Non usarlo E facevi il pane Per tutta la comunità ebraica Che sicuramente Trova il modo Di mangiare il pane Perché in quella zona Vivono tantissimi La nostra comunità ebraica Di Milano La zona è pregna E non mi sembra Che ci siano Gente Che muore di fame Sui marciapiedi Perché non trova il pane Da mangiare Quindi insomma Non capisco Dopodiché però Appunto Ho chiesto informazioni A chi di pane Lo fa tutti i giorni E ho chiesto Al mio panettiere Qui di fianco Per chiederti Ma scusa Cristian Ma quanto costa Il pane da te Giusto per capire Che 9 euro Mi sembra un po' Eccessivo La risposta È questa Non si sente La risposta La risposta è questa Ma non si sente Vediamo se Scusate Ho fatto una subito Non ne io Depende appunto Dalla qualità del pane Dal tipo di pane Comunque Il più economico Tra virgolette Che io faccio Un prezzo unico Uno per l'altro Per non stare lì Troppo a menarmela È 5,90 5,90 La metà del prezzo Di là Adesso No vero Il chilo è tanto Adesso capisco Le qualità e tutto Dopodiché poi Ricordo sempre E qui ci tengo A farlo Perché È uno dei locali Secondo me Con il nome più geniale Nella storia Dei nomi dei locali Allora In via Washington Se volete qualcosa Di moderno E c'è da una vita Quindi è moderno Era moderno 20 anni fa Ed è moderno ancora oggi C'è un locale Tra parentesi Con tantissimi Che coscer Quindi comunque Ha i panini E tutti gli hamburger E tutto quello che fanno Lo fanno Anche appunto Per la comunità ebraica Che abita in zona In via Washington Attenzione C'è un locale Che si chiama Dai Elisa Come si può chiamare Un locale Che c'è in via Washington Si chiama Denzel Denzel Washington Cioè secondo me È geniale questa cosa Io ogni volta Che passo Di di Impazzisco Impazzisco Davvero Cioè io Mi darei il Nobel Per il miglior Nome di locale Esistente Tu abiti un locale In via Washington Lo chiami Denzel Sei un genio Sei un Non lo dico Sei un genio Punto Una parolaccia Come accento Su questa cosa Come sottolineatura Quindi Il moderno Fa pari Con i costi Della vita E quindi A lei Avanti Con questa A me dispiace Per le due ragazze Perché secondo me Sono anche brave L'idea è buona Però Signori Qui la gentrificazione Sta veramente Facendo danni Cioè pensare Esultare Perché c'è un panettiere Moderno Che fa 9 euro Al chilo di pane A discapito Delle panetterie Vecchio stampo Che fanno 5 euro 90 al chilo Insomma Non mi sembra notizia Con cui proprio Dobbiamo esultare I suoi giornali E essere felici Questa è la Milano Che poi Vi chiede 800 euro al mese Per un monolocale Che vi chiede 300 mila euro Per un bilocale Se volete acquistarlo In zona Giambellino Insomma E' questa Quella Milano Lire Quindi Attenzione Esultare troppo Non c'è mai Troppo da esultare Quando arriva La gentrificazione Invece esultiamo Quando arriva Gianna Nannini Una vita Con te Alle 8 e 15 Crystal Radio Good morning Milano Gianna Nannini Una vita con te Alle 8 e 19 minuti Qui su Crystal Radio Crystal Radio E come vi dicevo Anche poc'anzi Nella prima parte Di trasmissione Insomma va avanti Tutta la giornata Non è che siamo solo Qui noi a cantarci Alle suonarci Alla mattina No tante altre trasmissioni Tra cui ad esempio Il tacchino curioso Che tutti i giovedì E le domeniche Alle 11 va in onda E vi racconta un po' Tutto quello che potete Davvero fare Non è la rubrica di ribiche Insomma no Lì proprio Sono tante curiosità Sulla città Quello che volete fare in città Non sulle venti Ma un po' anche curiosità Su cosa c'è nella città Luoghi Storie Insomma tutto questo Appunto Con anche il contributo Fondamentale E appunto Potete sentire sempre In onda Di Laura Che appunto Fa parte della squadra Del tacchino curioso E che oggi Compie gli anni E quindi Essendo la famiglia Di Cristal Radio Contenta per questo compleanno E soprattutto Aspettandoci Una grandissima torta Qui in diretta Con noi Facciamo gli auguri A Laura A Laura Per i suoi Tanti tanti Compleanni Auguri Tantissimi auguri Tantissimi Felicitazioni Come si dice in questi casi Tanti tanti auguri A Laura Appunto Colonna portante Del tacchino curioso Insieme ad Alberto Insieme a tanti altri Appunto Che collaborano con loro Insomma È una delle trasmissioni Storiche Della nostra rete E quindi Oggi continuo a chiamare la rete Mi sento Mike Buongiorno Quello dico Oggi Signora Ascolta Ascolta Cristal Radio Ascolta il tacchino curioso È curiosa anche lei Ci viene a Milano Che cosa fa a Milano Non mi viene bene Lo so Avevamo gente qua dentro Che la faceva molto bene Questa imitazione Però io non sono bravo A fare le imitazioni Con la R Moscia Mi può venire solo Guccini Altro Non mi può venire E quindi Lungo In retta Lungo la via Va la locomotiva E quindi Va anche la nostra musica Con i Virgo's Grove Di Beyoncé Alle 8 e 21 minuti Qui su Cristal Radio Noi ci risentiamo Fra pochissimo Dopo Virgo's Grove Di Beyoncé E dopo qualche consiglio Per gli acquisti Avanti con la musica Che è sempre forte E chiara Qui su Cristal Radio Milano Si sente R-Comi Blu Insieme ad Elisa R-Comi Devo dire R-Comi Un po' così Con la R Un po' l'albanese Perché se no Con la R Moscia Non mi viene facile dirlo E quindi È l'unico modo Che ho trovato Per dirlo 8 e 34 minuti Cristal Radio Venerdì 24 maggio Ancora una volta Tutti insieme Diciamolo Thanks God Is Friday Così è sempre meglio Ricordarci Che per fortuna Oggi è venerdì Insomma andiamo bene Andiamo bene via così Repubblica Milano Leggiamo perché Una notiziola interessante Che arriva O meglio Una dichiarazione Del nostro sindaco Sala Che dice Smog a Milano Rivendico le politiche Antitraffico Il PM10 Sono diminuiti Del 20% E quelli Del PM2 E mezzo Del 17% Tra le principali Città italiane Siamo quella Dice Sala Che ha visto Un miglioramento Più significativo Negli ultimi 20 anni La concentrazione Di PM10 E PM2 E mezzo Nella nostra città È quasi dimezzata Lo dicono i dati Così appunto Dice Sala E non sta mentendo Cioè nel senso che Leggiamo altre notizie Che dicono Che insomma Non è propriamente così E lui dice così In più dice Anche Che Dice La chiara dimostrazione Del fatto che Le azioni che stiamo mettendo In campo Per ridurre L'inquinamento Sono queste E la circolazione Delle auto Pondicità E i potenziali Mezzi di trasporto Hanno prodotto Degli effetti positivi Sull'aria Che tutti noi respiriamo Senza queste decisioni politiche Come i diventi Di circolazione Delle auto Più inquinanti Nelle zone A traffico limitato B e C Non avremmo ottenuto Granché Questo dice Sala E vi ripeto Non sta mentendo Nel senso che Molti altri diranno Non è vero È dimostrato Che l'Arabi non funziona L'Arabi non funziona Non è quello Allora Il dato Effettivamente è così Negli ultimi anni Nell'ultimo anno Il 20% Di PM10 in meno Ma il problema È capire Prima di tutto Le cause Che portano A questa diminuzione Che va benissimo Bisogna capire Cosa significa Diminuire Questo PM10 Perché il problema È che sì Lo diminuiamo Ma il numero Di giornate In cui superiamo I livelli Considiti di legge È ancora troppo alto A differenza Di altre città italiane Che magari hanno Il PM10 Diciamo Mediamente Cioè con una diminuzione Molto minore Rispetto alla nostra Cioè loro partono da 10 E arrivano a 8 Noi invece partiamo da 10 E arriviamo a 1 Va bene Ok Però non è così Cioè nel senso Che il problema È che i nostri livelli Sono comunque Troppo alti Quindi non è Che non dice la verità Non è che è sbagliata Questa notizia Anzi È giustissimo I dati sono questi Bisogna però riflettere Più in generale Sul guardare Non solo la diminuzione Del PM10 Che va benissimo Anzi bisogna diminuirlo Ma su quanto Nonostante la diminuzione Il PM10 Sia ancora Spesso e volentieri Troppo alto Nella nostra città Soprattutto anche Il PM2 e mezzo Che è quello più piccolo Che sappiamo Fa più male Anche agli anziani Ai bambini Alle fasce più deboli Bisogna fare queste cose Sicuramente Arabiera C Non risolvono il problema Al momento Il numero di incressi In Arabiera È ancora altissimo E non risolve il problema Lo sappiamo Ma anche Raccino Non risolve il problema Perché poi sappiamo Che il PM2 e mezzo Il PM10 Non è dato solo Dagli scarichi delle auto È dato anche Pensate Il PM2 e mezzo È dato anche Dalla rotazione Delle gomme Delle auto Sull'asfalto Solo Quindi anche l'auto elettrica Produce il PM2 e mezzo Alla fine Ok capite questo Il problema è quello Anche una bicicletta In realtà lo produce Molto meno Ma lo produce Quindi bisogna veramente Capire che Bisogna ripensare Completamente La città E io spero Che qualcuno Prima o poi Lo faccia Emma con apnea Qui su Crystal Radio Good morning Milano Ancora E da Milano Ci spostiamo Appena fuori A San Donato Milanese Ormai Sapete Io ho occhi Solo per San Donato Perché ricordo L'ennesima volta Elisa Galmarini La nostra produzione Arriva da Poasco In provincia Di San Donato Milanese No appunto La franzia di San Donato Milano E quindi ormai Occhi solo per San Donato Cioè quando arriva La notizia di San Donato Devo leggerla Perché Elisa Poi deve andare a casa La sua mamma Degli le notizie giuste Perché se no poi dopo Non sanno quello che succede Allora Vi arriva il nuovo stadio Del Milan Non lo sappiamo ancora O meglio C'era C'è l'idea appunto Di un referendum All'interno dei cittadini Di San Donato Tra parentesi Quelli di Poasco Sono quelli che Dovrebbero avere Le ricadute più grosse Su questo discorso Dello stadio A San Donato Comunque Nuovo stadio A San Donato Leggiamo da Corriere della Sera Milano Per il comune Di San Donato E è Inammissibile Il referendum Contro l'impianto Del Milan Il sindaco di Milano Sala Dice anche Sul rinvio Della segnazione Al Meazza Della finale Di Champions 2027 Dice che è una scelta Logica Aspettiamo il progetto Del restyling Quindi in realtà Si sta parlando anche Di fare la finale Di Champions 2027 Ma invece Perché scrivono Un titolo su una cosa E poi scrivono Un'altra roba Comunque Nessun referendum Allo stadio Per lo stadio San Donato Anche nel comune Dell'Inter Dove il Milan Avrebbe intenzione Di costruire Il nuovo impianto Il collegio Dei garanti Ha dichiarato Inammissibile La richiesta Promossa Dal comitato No stadio Il quesito Chiedeva Volete voi Che sul territorio Di San Donato Milanese Venga realizzato Un intervento A carattere sportivo E commerciale Che includa L'inserimento Di un nuovo stadio Di calcio La motivazione Di inammissibilità Dice I garanti Scrivono Che il quesito È diretto A incidere Su materia Di competenza Non esclusiva Del comune E in ogni caso Sarà oggetto Di valutazione Dalla pianificazione Urbanistica Comunale Quindi Però mi piace Non esclusiva Del comune Quindi non Non del comune Però se il comune Anche solo A Può dire F Tra A e Z Può dire solo F Perché noi lo lasciamo dire Ma soprattutto Perché Perché non lasciamo fare Il referendum Ai cittadini E questo Ci inventiamo La partecipazione Ci inventiamo Gli strumenti Per partecipare E poi noi Gli facciamo fare E quindi È insorto Il comitato No stadio Che da mesi Sta portando avanti Una battaglia Contro il nuovo Impianto Una triste E ulteriore Constatazione Di come Si allontana L'amministrazione Di San Donato Milanese Dalla consapevolezza Dell'esistenza Di un diritto Di cittadinanza Sulla partecipazione Pubblica Alle decisioni Sull'ambiente Questo ad esempio Uno dei commenti Della docente Del Politecnico E membro Del comitato Arianna Azzellino Che parla Un diritto Sancito Dalla convenzione Di Arus Nel 98 E recepito Poi anche Dalla direttiva Europea E poi Dalla nostra Stessa normativa Qui si dichiara Inammissibile un referendum Meramente consultivo Cioè non è che usciva Se sì o no Poi il comune Poteva fare quello che voleva Ma comunque Il referendum Era consultivo Qui si dice no A un referendum consultivo Quando si sta valutando Un progetto Che modificherebbe In modo irreversibile La qualità della vita Degli abitati di San Donato E dei comuni A esso confinanti Senza che nessuna Delle attuali componenti Politiche Della giunta San Donatese Abbia mai Neppure lontanamente Inserito un progetto Del genere Nel proprio programma elettorale Anche questo effettivamente È interessante Cioè Io ho votato qualcuno Cioè il signor Il signor Rossi Il signor Gianni Rossi Decide di fare il sindaco Del mio paese No? Di Ranfilandia Ok? Decide Si cambia le elezioni E mi dice Oh voglio fare La pista ciclabile Voglio fare l'acquedotto Voglio fare l'aeroporto Va bene Gianni Rossi Mi piace Lo voto Poi mentre lì dice Ah Poi volevo aggiungere Anche una cosa Aggiungo in mezzo alla città Uno stadio Per 80.000 persone Che vengono a vedere il Milan Ebbè ma io ti ho votato Per fare altro Non me l'avevi detto Nemo Decode Vincitore per la Svizzera Dell'Eurovision Song Contest 2024 Sta girando il nome Di Michelle Unzi Che avete visto Che potrebbe essere Tra le presentatrici Ovviamente Sendo la Svizzera Dell'Eurovision Song Contest 2024 Devo dire Che il suo nome Già girava all'epoca Quando l'abbiamo fatto in Italia Quindi non vorrei Che gli portiamo sfiga Un'altra volta E non lo fa neanche Tra le presentatrici Secondo me sarebbe perfetta Lei sa parlare benissimo Inglese, italiano E tedesco Cioè quindi potrebbe benissimo Farlo ed essere anche Insomma All'altezza Della cosa Dell'occasione Dell'evento Insomma essere all'altezza Essere professionisti Come ad esempio Adesso vado a leggere una notizia I ladri che hanno provato A mettere in piedi Un colpo Che nella loro idea Doveva essere Milionaria Ma Dieci auto E furgoni Come barriere E chiodi Sulla strada Per rubare In un'azienda informatica Del Varesotto Questo leggiamo Dalla Repubblica Milano Due punti Ma il magazzino Era vuoto Geni Geni Colpo da Quasi professionisti Alla Helmec Informatica Di Brunello Varese Ma i ladri Sono scappati A mani vuote Perché i prodotti Erano stati spostati In un'altra sede Benissimo Auto Furgoni Chiodi Sulla strada Per rubare Poco o niente E' accaduto questa mattina Appunto c'è ieri E' di ieri E' accaduto ieri mattina Vicino a Brunello Nell'area industriale di Brunello Piccolo centro Alle porte di Varese Dove ha una delle sedi Da società Helmec Informatica La metodologia della banda E' quella che da qualche tempo Si vede sempre più spesso In provincia di Varese E non solo Quindi Colpo in piena notte Numerosi mezzi rubati Posizionati per bloccare Le vie di fuga Che odi a terra Per allentare Gli eventuali appunto Polizia o carabinieri Che arrivano sul luogo Il problema questa volta E' che quando poi Hanno aperto il magazzino Ha detto Vai Suota tu Tutto Non c'è più niente E non c'era niente Quindi Non gli è andata bene Chissà che questo Magari non sia Il passo falso E che si scopra Che dietro anche Gli altri colpi Che ci sono stati Nei mesi scorsi Ci sia questa banda Devo dire che Comunque gli faccio i complimenti Vincono il premio Come miglior banda Chissà se in questo momento Solo che non Non credo che in questo momento C'è qualcuno Che li prenda in giro Tra di loro Non è che possono mandarsi Whatsapp Dicendo Ho letto cosa hai fatto E no Non possono Quindi anche Mi spiace Cioè nel senso Sono contento per la Helme Che è andata bene Sto giro Però vabbè Pensate Quindi anche Ormai signora mia Signora mia Non ci sono più Professionisti di una volta In niente Guardi lei Una volta Qui funzionava tutto bene Anche le rapine Venivano fatte bene Invece adesso Non ci sono più appunto I professionisti Di una volta Vabbè E invece ci sono le canzoni Sempre qui A farci compagnia Prima era Nemo Appunto il vincitore Dell'Eurovision Song Contest 2024 Con la Svizzera Voglio far scontare Un'altra canzone Sempre Che arriva Dall'Eurovision È la canzone Di Thali L'esponente Del Lussemburgo Che però Porta qualcosa Di italiano In questa canzone Ve l'ho già letto Altre volte Appunto la produzione Musicale Di Fighter La canzone appunto Presentata dal Lussemburgo E interpretata da Thali È parte Della produzione Fatta da Dardust Che è lo stesso Che poi Ha prodotto anche La canzone di Angelina Mango E quindi Ce ne andiamo ad ascoltare Adesso qui su Crystal Radio Good Morning Milano Dall'Eurovision Song Contest 2024 Per il Lussemburgo Thali Con Fighter 8 e 55 minuti Laura del Tacchino Curioso Tanti tanti auguri A Laura ancora Tacchino Curioso Che avete sentito Magari ieri mattina Appunto alle 11 Qui su Crystal Radio O che potete risentire Anche domenica Alle 11 Sempre qui su Crystal Radio Auguri Buon compleanno Laura O dopodiché Poi c'è anche un sito Internet Crystal Radio Se andate sopra Se andate sopra C'è l'elenco Dei programmi Che ci sono Con gli orari Potete segnarvi Potete rivedervi Potete risegnarvi Tutto quello che è Tutto E potete anche Scriverci Al 33178 53555 Allora noi ci risentiamo Lunedì Buon weekend A tutti Fate cose belle E divertenti In questo weekend E poi ci ritroviamo Qui lunedì Come sempre Dalle 7 e 9 Con Good Morning Milano Buon weekend A tutti Ciao ciao Ciao